Il corrispondente balsamo Aloe Jojoba Conditioner, questi prodotti di Forever hanno davvero tutto per piacere. Non appena apri il tappo, verrai incantato da un seducente profumo di melone tropicale. Lavare i capelli diventa la tua piccola esperienza di benessere quotidiano, promesso. L'ingrediente principale in entrambi i prodotti è ovviamente la nostra Forever Aloe. Il 40% di puro gel di aloe vera idrata a fondo i capelli in modo da non renderli secchi e fragili dopo il lavaggio. Le preziose sostanze presenti nell'aloe vera rafforzano la radice dei capelli e li rivitalizza. Tre diversi oli di alta qualità mantengono i capelli idratati senza appesantirli. Con i suoi grassi naturali, l'olio di jojoba rafforza i tuoi capelli e gli dona più volume. L'olio di argan, anche chiamato l'oro liquido del Marocco, nutre i capelli con l'antiossidante vitamina E. L'olio di rosa canina e le vitamine C, E e B mantengono i capelli elastici e accelerano la rigenerazione del cuoio capelluto. Gli acidi grassi contenuti negli oli riducono il prurito del cuoio capelluto e le vitamine sostengono la resistenza dei capelli. Soprattutto per il cuoio capelluto secco o con forfora, lo shampoo è un vero aiuto. Inoltre, ripara le punte danneggiate e previene le doppie punte. L'olio di jojoba dona ai capelli una lucentezza straordinaria. Entrambi i prodotti sono concepiti per rendere i capelli particolarmente morbidi dopo il lavaggio. Questo li rende gestibili e facili da pettinare. Ora, potresti pensare che questa abbondanza di ingredienti appesantisca i capelli, ma non è così. Perché sia nello shampoo che nel balsamo, gli ingredienti sono stati combinati in modo equilibrato e il tutto senza solfati. Il risultato sono capelli sani con vibrante elasticità e lucentezza. I prodotti sono adatti a tutti i tipi di capelli. Aloe Jojoba Shampoo e Aloe Jojoba Conditioner sono stati testati dall'istituto Dermatest e hanno ricevuto la valutazione molto buono. Questo garantisce la migliore compatibilità cutanea e la massima qualità. Ti auguro tanto divertimento e benessere con i prodotti di Forever.